benvenuti come al solito alla mia diretta del lunedì durante la quale rispondo alle vostre domande quindi anche oggi che è pasquetta sono qua a rispondere alle vostre domande se se ne avete in realtà ne ho già qualcuna che ho ricevuto via email e quindi ho deciso di fare lo stesso la la diretta proprio perché comunque c'erano già delle domande a rispondere prima di iniziare però prima di passare per l'appunto le domande e voglio ovviamente come al solito ringraziare lo sponsor del mio canale youtube che serve accade come potete vedere e loro fanno diversi servizi vi ho messo il link al loro sito web andate a vederlo perché fanno in effetti diverse cose e c'è anche ci ho messo anche a disposizione un codice sconto del 10 per cento se volete da sfruttare però stavolta vi aggiungo che se volete andare a andare a vedere vi ho messo anche i link in descrizione di questo hanno un canale telegrama anche da seguire che quindi potete chiedere l'iscrizione gratuita perché il canale telegrama è gratuito e vedere le analisi che fanno insomma e sentire dei prodotti i servizi di cui che che svolgono che offrono eccetera eccetera ora però direi di passare direttamente alle domande perché qualche domanda ce l'ho già allora la prima domanda che mi è arrivata via mail a tra l'altro vi ricordo che potete sempre scrivermi via email prima della diretta l'indirizzo è info chioccio la marco caviglioli punto it ma vi ho messo l'ho messo in iscrizione così o poi quando vado in diretta inizio a rispondere dalle domande che mi avete mandato prima precedentemente via email allora la domanda è questa le banche tradizionali che a fine anno ti pagano gli interessi sul deposito sul conto corrente ma questi a fine giro vengono tassati al 26 per cento indifferentemente dall'importo che si riceve la domanda è una banca potrebbe accadere i propri wallet custodial per depositare stable coin e non tassare i propri clienti per le somme degli interessi allora a parte il fatto che io sinceramente non so se veramente ti pagano degli interessi sul deposito qualcosa magari sì però credo che sia proprio poca 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 roba comunque qualcosa sì e sinceramente io personalmente non lo so se vengono tassati al 26 per cento però può essere quindi do per buona queste cose su questo non non sai per rispondere passiamo invece alla questione che riguarda la banca che se potrebbe se potesse creare dei propri wallet custodial per depositare stable coin per conto dei clienti ok e non tassarli per le per gli interessi allora diciamo subito che nel momento in cui si si erogano degli interessi quindi non se ci sono o no plus valenze ma quando il guadagno è netto perché negli interessi tutto ciò che ti danno come interessi è guadagno netto in quel caso comunque c'è tassazione a prescindere da come vieni pagato perché quello non è un cosiddetto capital gain non è un reddito da investimento cioè mi spiego in quel caso il investimento sta semplicemente nel depositare del denaro sul conto della banca che in cambio ti promette degli interessi ma gli interessi sono reddito cento per cento non è una plus valenza dovuta a vendita in profitto ok perché in quel caso non c'è vendita gli interessi non richiedono che venga ci sia una vendita e quindi le tasse ci sono perché quello sarebbe reddito al cento per cento quindi il capitale depositato non sarebbe tassato ma gli eventuali interessi sì e quel punto anche se le banche li erogassero in stable coin comunque ci sarebbe il l'interesse a pagare il problema è proprio che io oggi non credo che le banche in europa in italia possano pagare interessi in stable coin il problema è che nel caso in cui decidessero di farlo sarebbe un gran casino quindi prima bisognerebbe attendere per una cosa del genere che effettivamente potessero farlo a livello legale e poi in un secondo momento se lo facessero a livello legale dovrebbe si dovrebbe anche trovare un modo per far sì che possano far pagare le tasse sugli interessi le banche fanno da sostituto d'imposta quindi quando vi danno degli interessi vi scalano già alle tasse quindi dovete poi dopo andarli a dichiarare a pagare le tasse mettendole sul come si chiama sul sulla dichiarazione dei redditi per le stable coin sarebbe più complicato sarebbe complicatissimo perché le tasse vanno pagate in euro non in stable coin quindi dovrebbero vendere e c'è un problema perché la banca non credo che si prenda il rischio di vendere eventuali stable coin magari a prezzo più basso verrebbe fatto sul valore in euro teorico delle stable coin però se dovessero venderne una parte ecco che a quel punto potrebbero vendere a prezzo inferiore avere problemi quindi io credo che nessuna banca si sognerà mai di mettersi a creare problemi di questo tipo anche perché non servirebbe per evitare di pagare le tasse vi dirò di più però io non mi stupirei se qualche banca creasse una propria stable coin però attenzione in europa sarebbero stable coin sull'euro quindi sarebbero la stessa identica cosa dell'euro ok tenete presente che per la nuova normativa europea il mica quelle stable coin che sono convertibili in valuta fiat alla pari uno a uno sono praticamente paragonati alle valute fiat si chiamano i money token è vero è complicato insomma hanno delle altre caratteristiche aggiuntive però una banca se mettesse una propria stable coin sarebbe sicuramente un i money token quindi paragonato alla voluta fiat e quindi non ci sarebbe di fatto nessuna differenza se non il metodo con cui avvengono le transazioni perché la transazione sarebbe su block chain nel caso di stable coin e non con altri sistemi quindi alla fine a mio parere non si riuscirà ad aggirare il problema ora io passerei alle domande via via chat se ce ne sono anche perché oggi magari può anche darsi che ce ne siano di meno e finiremo prima io però di prima di passare le domande via chat voi intanziato iniziate a scriverle vi direi una cosa piuttosto importante che sta avvenendo proprio oggi allora oggi il prezzo di bitcoin era abbastanza tranquillo attorno ai 69 mila 70 mila dollari insomma nulla di particolare a partire dal dal pomeriggio e in particolare da quando hanno aperto le borse statunitense perché oggi le borse statunitense sono aperte io sto proprio andando adesso a vedere i dati ha iniziato a scendere ma perché perché sono scese anche le borse ok allora in questo momento abbiamo il lo standard pur che ha meno 0 34 per cento da quando ha aperto e ha aperto alle 15 30 quindi praticamente poche ore fa il dow jones addirittura è sotto dello 0,68 per cento il prezzo di bitcoin alla fine è sceso sotto i 69 mila dollari e adesso sembra che voglia scendere anche sotto i 68 mila questo perché tra l'altro faccio notare questa cosa molto importante che oggi il dollar index è salito sopra i 105 punti per la prima volta da novembre dell'anno scorso il problema qual è il problema è che stanno aggiungendo pessime notizie dal medio oriente adesso vi vado a leggere la notizia appena condivisa su 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 x ma ve la leggo eh per la precisione eh allora in siria c'è stato un attacco israeliano nei pressi dell'ambasciata iraniana a damasco eh otto i morti accertati ehm tra cui il comandante delle forze eh vabbè eh Quds Zaedi credo che si chiami così dicono che era un pezzo grosso del regime di Teheran allora il punto è che eh l'Israe c'era con l'Iran l'Iran c'era con Israele il problema è che questo stacco è stato fatto in Siria perché lì in Siria a Damasco c'era questo eh comandante delle forze iraniane e gli israeliani hanno attaccato eh l'ambasciata eh iraniana eh in Siria questo è un gran casino quindi quando è successo questo praticamente mh subito eh i mercati hanno iniziato ad aver paura e tutto è andato giù poi c'è da dire che ehm le borse americane stavano già scendendo e quindi hanno eh aumentato la discesa ecco e Bitcoin eh ha seguito ehm fatemi ancora vedere solo che cosa sta facendo l'oro perché eh in questi momenti è interessante vedere l'oro eh scusate non mi si è caricato ok allora l'oro in questo momento eh beh in realtà sta scendendo anche l'oro cosa curiosa nel senso che stamattina era attorno ai 2260 dollari l'oncia eh poi oggi pomeriggio è sceso fino a eh 2230 e adesso è 2240 quindi l'oro non si sta muovendo molto siamo a più 0 20% da ieri credo sì quindi in realtà eh stanotte era salito o addirittura ehm quindi la situazione sembra diciamo così non particolarmente preoccupante ma preoccupante e a dire il vero io avevo notato oggi che c'era dei buoni segni per quanto riguardava eh il prezzo di Bitcoin eh specificatamente è proprio il prezzo di Bitcoin ehm avevo notato che c'era una significativo calo della pressione di vendita diciamo nulla di esagerato però decisamente interessante ehm e quindi in teoria ci sarebbero le condizioni per salire il problema è che poi nel pomeriggio le borse statunitense hanno aperto in calo il dollar index ha aperto in risalita e c'è stata questa pessima notizia e quindi il prezzo di Bitcoin è inevitabilmente sceso perché ehm oggi sì la pressione di vendita era in calo ma era in calo anche quella d'acquisto purtroppo e quindi eh con quello che è successo poi ovviamente sarà aumentata la pressione di vendita eccetera quindi siamo in una situazione un po' difficile ma non per i mercati cripto non per il mercato di Bitcoin ma per i mercati finanziari in generale eh e questo è quello che sta accadendo eh poi per carità insomma secondo me non è nulla di preoccupante non so se ci sono cattive notizie da per quanto riguarda le eh altre criptovolute fatemi vedere che non sono ancora andato a vedere le che cosa è capitato alle altre eh sì insomma diciamo una giornata bruttina ma non bruttissima meno sette per cento eh Warcoin meno otto per cento insomma eh sì insomma ehm niente di preoccupante tenete presente che tra meno di tre settimane ci sarà l'alvin di Bitcoin ah una cosa importante eh difficilmente il prezzo di Bitcoin dopo l'alvin salirà anzi è per sì impossibile che possa scendere dopo l'alvin eh poi tra mesi quando inizierà ad esserci l'effetto vero del prezzo dell'alvin sull'offerta allora magari potremmo vedere una risalita però in questo momento io eh se la situazione rimane questa insomma non è che posso darvi tante buone notizie passiamo alle domande via chat ah no scusatemi prima di passare domande via chat mi raccomando scrivetele perché eh non ce ne sono tantissime per forza oggi è Pasquetta eh magari finiamo anche prima eh però permettetemi di approfittare del fatto che ce ne sono poche per dirvi ancora due cose importanti per quanto riguarda le mie dirette la prima è che mercoledì cioè dopo domani alle diciotto e trenta quindi non alle diciotto ma alle diciotto e trenta avrò in diretta eh il giornalista alle ventiquattro ore Vito Lops eh per fargli delle domande quindi insegnatevelo perché eh e e in un giorno in un orario particolare mercoledì tre aprile alle diciotto e trenta eh gli faremo delle domande che riguardano soprattutto i mercati tradizionali le borse tradizionali e soprattutto che cosa sta facendo il eh eh bitcoin e come si sta muovendo all'interno dei mercati finanziari tradizionali ora che ci sono gli etf negli Stati Uniti quindi sarà molto interessante perché l'argomento sarà molto interessante e Vito è uno che i mercati finanziari tradizionali vi conosce molto bene eh quindi questo per quanto riguarda mercoledì e poi un'altra invece informazione sto cercando di eh creare un talk show sulle cripto sempre qua sul mio canale YouTube cioè un appuntamento settimanale durante il quale avrò diversi ospiti con il con i quali parleremo degli argomenti più importanti e quindi vi chiedo se avete voglia di suggerirmi quali argomenti potremo trattare e quali ospiti potrei eh invitare eh perché mi sto muovendo probabilmente riuscirò a far qualcosa magari da maggio eh però se mi date voi qualche qualche feedback qualche idea io magari partirò proprio con le idee che mi eh che mi segnalerete voi bene passiamo alle domande via chat ehm come la vedi la questione geopolitica russianato e come può influire su bitcoin? Allora attenzione ad un punto allora come vi ho detto prima eh la questione che oggi sta preoccupando i mercati e il Medio Oriente anche perché il Medio Oriente si estrae un sacco di petrolio e quindi quando ci sono problemi in Medio Oriente ci sono problemi con le forniture di petrolio il prezzo può salire l'inflazione eccetera e quello è un problema reale c'è e sotto gli occhi di tutti oggi la questione è peggiorata il petrolio è sempre un problema eccetera ma per quanto riguarda russianato attenzione perché quest'anno ci sono le elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America quindi è molto difficile riuscire a distinguere tra le cose che vengono dette dai politici e da chi ha interesse politico tra la verità e la propaganda perché quest'anno è tutta propaganda cioè quello che dice Joe Biden è propaganda quello che dice Donald Trump è propaganda può darsi che anche quello che dica Vladimir Putin sia propaganda per influenzare le elezioni americane e quindi in questo momento è difficilissimo capire come stanno veramente le cose perché ad esempio a me risulta che dal punto di vista militare non stia accadendo niente di importante nel senso sì cioè sta andando avanti la stessa storia che va avanti oramai praticamente da due anni perché dopo il boom iniziale poi alla fine è due anni che non succede quasi nulla di veramente significante a livello militare intendo quindi io faccio un po' fatica in questo momento a capire quali possano essere le reali conseguenze perché si fa capire si fa difficoltà a capire che cosa vogliono veramente perché ovvio che la questione centrale è la minaccia di una guerra nucleare e però in questo momento la domanda è ma quanto questa minaccia è vera e quanto invece serve a influenzare le elezioni americane io sinceramente non so rispondere però dovete sapere una cosa io penso che sostanzialmente quando i politici fanno propaganda mentano sempre più o meno sempre magari a volte un po' di più a volte un po' di meno ma sempre e quindi io quando quando sento minacciare le guerre nucleari eccetera a me viene sempre sospetto che siano menzogne in particolare durante un anno come questo che è un anno importantissimo dal punto di vista elettorale e quindi se poi invece andiamo a vedere le cose concrete ma non lo so a me non risulta che cioè che è tutto oggi esattamente come era qualche mese fa come era l'anno scorso e quindi come avete visto bitcoin ultimamente se ne fregato di queste cose se è vero che solo propaganda continuerà a fregarsene ok anzi vi dirò di più in realtà per quanto riguarda le elezioni presidenziali americane se dovessero vincere i repubblicani di donald trump bitcoin potrebbe giovarsene perché i democratici di biden invece sono un po' contro le criptovalute quindi addirittura una vittoria di trump forse potrebbe aiutare quindi secondo me il vero noccio della questione in questo momento per quanto riguarda le borse americane bitcoin eccetera sono le elezioni presidenziali in più c'è il problema del medio oriente e soprattutto quello legato al petrolio perché i mercati finanziari aspettano un taglio dei tassi da parte della fed però questo potrebbe avvenire solo se effettivamente ci sarà una riduzione dell'inflazione l'inflazione in questi ultimi tempi non sta scendendo se c'è il problema di un allargarsi del conflitto in medio oriente potrebbe essere difficile per i medi orientali esportare petrolio magari proprio per l'iran e quindi potrebbe aumentare di nuovo il prezzo del petrolio aumentare l'inflazione e ridurre le probabilità che ci sia una riduzione dei tassi infatti le probabilità date dai mercati allora il primo maggio ci sarà la prossima riunione del FOMC quindi la fed deciderà cosa fare ma i mercati danno per scontato che deciderà di non fare niente né alzare né abbassarli la volta dopo sarà il 12 giugno fino praticamente a qualche giorno fa i mercati davano probabilità al 60 per cento circa che a giugno la fede iniziassi a tagliare i tassi oggi questa percentuale è crollata sotto il 52 per cento con più del 46 per cento di probabilità che non faccia niente quindi sembra che i mercati stiano rimandando l'ipotesi del taglio dei tassi a luglio a luglio in questo momento danno solo il 32 per cento di probabilità che i tassi rimangano quelli attuali quindi sono convinti che li taglieranno e quello che sta capitando oggi purtroppo a mio parere ragionamento è proprio questo aumenta il rischio che l'inflazione non scenda e quindi riduce le probabilità che la fede tagli tassi a giugno e quindi i mercati stanno reggendo di conseguenza perché finché non taglierà i tassi di liquidità ce ne sarà di meno quindi a mio parere sono in realtà due le questioni geopolitiche una probabilmente più influenzata dalla propaganda delle elezioni e un'altra invece più influenzata da un problema fondamentale vero che quello dell'inflazione andiamo avanti cosa ne pensi di etena e sarebbe un facsimile di luna sai che non ho mai sentito nominare è la prima volta che l'ho sentito nominare quindi non non so dirvi niente grazie di avermelo segnalato perché così magari poi mi andrò a vedere di che cosa si tratta altra domanda dovrebbe salire prima dell'albing scendere dopo dell'albing ovviamente il prezzo di bitcoin allora non è che dovrebbe salire prima dell'albing attenzione cioè potremmo secondo me la salita del prezzo di bitcoin nelle settimane nei mesi scorsi è dovuta proprio al fatto che i mercati prezzavano l'albing e potrebbero anche aver prezzato del tutto l'albing e quindi ci potrebbe anche essere fino all'albing la lateralizzazione attorno a 69 mila 70 mila dollari tant'è che oggi è sceso sotto 68 mila dollari 69 mila dollari ma poi non è che è sceso molto sotto anzi non è sceso sotto il 68 e sembra che più o meno quasi quasi voglia recuperare quindi le ipotesi più probabili secondo me sono due o lateralizza fino all'albing quindi per i prossimi 19 giorni per caldo dovrebbe essere il 20 di aprile oppure magari fa ancora un'ultima risalitina fino a 75 mila non lo so 80 mila più o meno mentre invece dopo l'albing è possibile che si genere un una sorta di sell the news molto spesso quando avvengono avvenimenti importanti eh per bitcoin il prezzo prima è salita è salito proprio quando avvengono gli avvenimenti poi scende quindi secondo me ci sta benissimo una una discesa del prezzo di bitcoin appena dopo l'albing eh questa discesa potrebbe andare avanti per eh a fine aprile e forse anche a maggio perché guardate che maggio non è un buon mese per i mercati finanziari in realtà nemmeno giugno lo è quindi può anche darsi che eh la bull run o sia finita o stia per terminare questa bull run ma magari a luglio potrebbe essercene un'altra quindi la mia idea è che fino all'albing eh il prezzo potrebbe tenere un magari so sopra i 65 mila dollari o magari anche fare un tentativo più in alto ma dopo l'albing potrebbe scendere e magari a maggio o a giugno scendere anche un po' di più anche in maniera un po' più significativa ecco poi a luglio ci potrebbe essere la seconda parte della bull run questa è la mia idea poi magari oh io non sono bravo a fare previsioni questa tra l'altro non è una mia previsione che io l'ho presa in prestito da altri perché ovviamente non non sono in grado di farle eh però insomma mica detto che vada così questo è quel io ve lo dico perché sento circolare da diverse parti questo tipo di eh di previsione e quindi fondamentalmente potrebbe anche starci ehm ah stamattina bitcoin cash era salito poi pomeriggio è sceso a me ad esempio personalmente non me ne frega niente di bitcoin cash eh io detesto qualsiasi progetto cripto usi il nome di bitcoin senza essere bitcoin eh andiamo avanti hai detto tante volte che per valutare le pressioni di acquisto di vendita guardi tanti fattori ed è difficile spiegarle ma puoi provare a spiegarci più precisamente cosa guardi allora per quanto riguarda la pressione di vendita e la pressione di acquisto tenete presente che un indicatore molto utile proprio il prezzo ok però attenzione perché non è così banale nel senso che non è che se il prezzo sale è aumentata la pressione di acquisto ok o se il prezzo scende è aumentata la pressione di vendita perché quando il prezzo sale o è aumentata la pressione di acquisto o la pressione di acquisto è rimasta la stessa ed è scesa la pressione di vendita quindi dal prezzo non si può capire e la stessa cosa vale al contrario quando il prezzo scende non è detto che sia perché è aumentata la pressione di vendita magari la pressione di vendita è rimasta la stessa ma si è ridotta quella d'acquisto ok ad esempio nei giorni scorsi quando c'è stata la correzione la pressione di acquisto la pressione di vendita non era aumentata però era discesa scesa molto quella di acquisto ok quindi il prezzo serve è il punto di partenza per andare a risalire all'indietro però non è sufficiente allora io che cosa vado a vedere vado a vedere i movimenti di bitcoin dagli exchange in entrata e ne uscita perché perché quando entrano dei bitcoin attenzione quindi non il controvalore in dollari ma proprio il numero di btc di bitcoin quando entrano dei bitcoin sui exchange significa che molto probabilmente qualcuno li ha depositati per venderli cioè pensateci bene qual è il motivo per cui uno dovrebbe andare a depositare bitcoin sugli exchange molto probabilmente e perché li vuole vendere cioè e e e la spiegazione più probabile quindi se aumentano il numero di bitcoin sui sui centri tanto questo un dato aggiornato in tempo reale e il prezzo scende l'ipotesi più probabile è che si è asceso perché aumentata la pressione di vendita ok viceversa se il numero dei bitcoin sugli exchange si riduce cioè sono stati tolti prelevati vuol dire che probabilmente c'è meno gente disposta a venderli quindi magari una c'è stata una riduzione della pressione di vendita quindi se il prezzo di bitcoin sale e si è ridotto il numero di bitcoin sugli exchange molto probabilmente la spiegazione più probabile che sia diminuita la pressione di vendita purtroppo bisogna mettersi lì far tutti questi confronti non sempre si riesce a capire qualche cosa a dire al vero buona parte delle delle volte si riesce a capire qualcosa ad esempio il motivo per cui ci sarebbero le condizioni per una risalita del prezzo di bitcoin e che proprio oggi c'è stata una significativa riduzione del numero di bitcoin sugli exchange quindi un significativo prelievo di bitcoin sugli exchange oggi oggi gli investitori gli speculatori sui mercati cripto non si stavano preparando a vendere non è che sono andati a mettere un sacco di bitcoin sugli exchange per vendere quindi oggi molto probabilmente il prezzo non è sceso perché aumentata la pressione di vendita perché non si registra un aumento dei bitcoin che sono stati versati sugli exchange anzi il contrario oggi probabilmente a questo punto per esclusione l'ipotesi è l'altra oggi c'è troppa poca pressione di acquisto d'altronde chi è che va a comprare bitcoin sui mercati in particolare quelli americani quando le borse sono in discesa ricordate le borse sono asset riscone come bitcoin sono asset differenti ma tutte e due hanno quella credibilità di essere riscone e soprattutto quando ci sono problemi che fanno presumere che la situazione non stia andando verso il meglio e la gente sta comprando dollari con il dollar index che sale ok quindi secondo me oggi non è certo ma è molto probabile che si sia stata una forte riduzione della della pressione di acquisto su bitcoin data da questi fattori anche perché dall'altra parte sembra invece che anche la pressione di vendita sia diminuita e quindi l'unica spiegazione plausibile che sia ridotto si sia ridotta la pressione d'acquisto ok purtroppo come come vi dico questi sono delle delle dei ragionamenti che non sempre portano a capire qualche cosa a volte sì oggi sembra di sì andiamo avanti che cold wallet consigli che abbia lighting network grazie mille allora qua io devo fare una vabbè vi do una una soluzione un po particolare allora se voi col wallet che cos'è è un wallet che non è collegato ad internet e quindi non può essere usato quindi difficilmente può essere craccato ok quindi se tu mi stai chiedendo un cold wallet mi stai chiedendo un wallet che tu non è che vuoi usare continuamente cioè lo usi per metterci dei bitcoin lasci lì poi un domani se serve lo ritiri fuori io consiglio electrum electrum e non è un hardware wallet è un software wallet che tu puoi installare ok puoi metterci let in network e electrum è uno dei migliori wallet bitcoin che ci siano al mondo dopo che ci hai messo bitcoin per farlo trasformare in un cold wallet tu ti segni il seed offline magari su un foglio di carta che metti in cassaforte e poi disinstalli il il software e così sul tuo computer non so se c'è anche l'app comunque non c'è più traccia di quel wallet però tu in qualsiasi momento puoi reinstallarlo inserisci il seed quando si installa electrum electrum ti da due possibilità o creare un wallet da zero quindi creando un nuovo seed oppure recuperare un wallet già esistente con il seed quindi tu lo tieni disinstallato quando vuoi lo reinstalli ci vuole niente installare electrum vai a prenderti il tuo seed in cassaforte inserisci le 24 o 12 parole non mi ricordo quante ne abbia e tu recuperi il tuo wallet a quel punto è diventato hot wallet lo puoi usare poi una volta che finito lo disinstalli di nuovo questo è un sistema parecchio sicuro ok oltretutto avendo certo devi stare attento a come conservi il seed magari conviene salvarlo in due luoghi diversi insomma conviene ragionare un po su questo però è un sistema che funziona molto bene se tu fai poche transazioni ovvio che se tu invece fai molte transazioni ti conviene avere un legger un hardware wallet che colleghi subito e fai le operazioni e il problema è che non so se hanno lighting network legger mi sembra di no ma non so nemmeno se c'è la battra esor quindi invece con elettro mai sul sicuro ritra ritracciamento post al bingo pre al bing io faccio un po fatica a immaginare un ritracciamento pre al bing ci può essere soprattutto se come oggi sono i mercati finanziari tradizionali a avere dei problemi e quindi a in qualche modo influenzare negativamente anche bitcoin oggi la gente sta comprando dollari quando la gente compra dollari e perché si aspetta che i prezzi degli altri asset scendano e quindi con i dollari poi li vuole ricomprare a prezzo più basso e quindi per comprare dollari sia bitcoin bitcoin alto ed è in guadagno vende bitcoin per acquistare dollari quindi nel caso in cui le borse tradizionali avessero dei problemi sì ci potrebbe anche essere un ritracciamento per al bing ma altrimenti vedo difficile che il prezzo di bitcoin possa scendere prima dell'albine per motivi suoi ok e dopo invece una volta che c'è stato l'albine potrebbero non esserci motivi per tenerlo alto e quindi io me l'aspetto oltretutto ricordate maggio e non è mai un mese o meglio scusami maggio molto spesso è un mese non buono per i mercati finanziari e nemmeno per quelli cripto e quindi io maggio sono un po dubbioso sul fatto che maggio il prezzo di bitcoin possa tenere ok e invece ci abbiamo un sacco di domande anche oggi va bene passiamo alla prossima ecco va bene sì guarda l'idea di avere come ospiti durante il top show delle persone esperte di una determinata coin quindi fare che ne so magari non saprei in questo momento l'unica che mi verrebbe in mente che si su cui si dovrebbe fare un bel ragionamento è solana perché pieno di meme coin otton coin e quindi avere infatti tu solana viene suggerito sì questa è una bella idea e credo che lo fanno come vedi tron trx pensi sia un progetto vecchio sì penso sia un progetto vecchio io credo che tron in questo momento stia andando avanti soprattutto grazie a usdt il problema è che sembra che tether non punti più tanto su tron anche perché poi non è che sia un po così bassa e le fi su tron credo che tether punti molto di più su layer 2 adesso dopo den coon che ha fatto sì che le fi sui layer 2 di tirium sono crollate è ovvio che gli sdt conviene scambiarli su arbitrum ok o magari su solana su binance marcei e non su tron quindi io non lo vedo molto bene tron ok fate attenzione perché potrebbe essere sorpassato secondo te l'etf sui tirium potrebbe spingere anche i tocchi e tirium sì th sì assolutamente però attenzione perché io sinceramente non mi aspetto che la sec lo approvi già maggio la secca entro maggio dovrà pronunciarsi io ho paura che che si pronuncerà per forza di cose ma che lo boccerà anzi anche gli esperti di etf sono di questa idea gli esperti di etf danno solo il 35 per cento di probabilità ad oggi che la sec approvi l'etf su etirium già a maggio quindi probabilmente se ne parla poi dopo però sì perché no una volta che c'è io credo che pot magari meno di quanto ha fatto con bitcoin però sì credo proprio di sì perché comunque la maggior parte delle persone che sta comprando gli etf su bitcoin fino ad oggi da quando sono sbarcati sulle borse usa sono retail e quindi saranno interessati anche quelli sui tirini ok poi andiamo avanti quindi gli etf non hanno portato ancora benefici no secondo me li hanno portati ok perché hanno consentito un sacco di retail di entrare su bitcoin che prima non c'erano ma non li hanno ancora portati tutti cioè questa è la mia idea allora avevano detto che gli esperti di etf avevano detto che gli etf ci avrebbero messo due o tre anni ad attrarre capitali su bitcoin invece l'hanno fatto subito perché l'hanno fatto subito questa è la mia idea l'hanno fatto subito perché molti retail li hanno comprati con la prospettiva dell'albin cioè è iniziata a diffondersi questa idea che badate bene quattro anni fa durante il precedente albin non c'era io mi ricordo chiaramente io fui uno dei pochi che hanno scorso nel 2020 attorno al giugno quindi poco tempo dopo l'albin di di maggio dissi guardate che potrebbe accadere come è sempre accaduta e a fine anno il prezzo di bitcoin potrebbe salire fui uno dei pochi a dirlo all'epoca c'erano in pochi che lo credevano oggi invece tutti dicono guardate che questo è l'anno dell'albin e a fine anno il prezzo di bitcoin potrebbe salire quindi a mio parere gli etf hanno aiutato i retail che non erano sui mercati cripto ma solo su quelli tradizionali a investire su bitcoin in attesa dell'albin ma i veri benefici degli etf devono ancora arrivare secondo me soprattutto se noi dopo l'albin dovessimo veramente vedere un ritracciamento ma un ritracciamento serio non a 65 mila dollari 62 mila dollari ma sotto i 60 mila o anche ampiamente sotto i 60 mila avremmo la certezza che gli etf non hanno ancora fatto tutto non hanno ancora portato tutti i loro benefici e che questa bulla era dovuta al fatto che i mercati stavano apprezzando l'albin a quel punto gli etf potrebbero iniziare a fare effetto perché vedete una cosa certa è che gli etf hanno influenzato il prezzo di bitcoin fino ad oggi quindi dall'11 gennaio fino ad oggi grazie ai retail non grazie agli istituzionali gli istituzionali sono già entrati su bitcoin ma con altri strumenti ok gli istituzionali non hanno ancora iniziato a comprare in massa gli etf su bitcoin quindi molto probabilmente aspettano un ritracciamento probabilmente compreranno a maggio giugno e allora è lì che vedremo i veri benefici degli etf perché quello che possono investire gli istituzionali è molto di più di quello che possono investire i retail per ora abbiamo visto solo i benefici portati dagli etf per quanto riguarda i retail non ancora per quanto riguarda gli istituzionali lo vedremo probabilmente a partire da giugno in poi tenete presente ricordatevelo che per un istituzionale per poter inserire etf su bitcoin nel proprio portafoglio c'è una prassi da seguire che non è veloce quindi gli istituzionali non potevano comprare subito gli etf gli istituzionali che volevano investire su bitcoin hanno già investito secondo me già nel 2020 però molti hanno investito sicuramente anche nel 2023 e devono ancora arrivare sugli etf quindi la maggior parte dei benefici di etf deve ancora arrivare quali etf su bitcoin mi consiglieresti no questa domanda mi spiace non so rispondere perché in realtà non sono un esperto di etf trading o accumulo bellissima domanda questi allora io vi do la mia idea ok però prendetela solo come un'opinione personale a mio parere hanno senso entrambi cioè secondo me sui mercati cripto non fare trading del tutto non è che abbia molto senso anche perché magari non su bitcoin ok però sulle al coin si può si può fare trading si possono fare anche cose molto interessanti ok ecco non accumulate al coin perché non si sa mai dove vanno a finire ok però il trading comprare per vendere prima possibile a prezzo maggiore ha perfettamente senso sulle al coin e l'accumulo però ha perfettamente senso su bitcoin soprattutto secondo me l'accumulo fatto sul lungo periodo cioè io ho questa idea che bitcoin diventerà una forma di pensione integrativa cioè di integrazione alla pensione se uno compra bitcoin per 20 30 o 40 anni di fila tutti i mesi poco e poi magari si trova una bella pensione integrativa quindi molto interessante fare accumulo su bitcoin magari non necessariamente trading ok a quel punto su bitcoin ma poi ci sono le alcune sulle alcune l'accumulo ha poco senso ma perché non fare trading sulle alcune poi per carità e il trading è rischioso solitamente ci si perde quindi fate attenzione però ad esempio durante una bull run e poi così difficile guadagnare con il trading sul cripto magari durante il bear market non lascia perdere quindi io dico entrambe le cose ok dove vedere il prezzo di bitcoin in tempo reale ti dico cosa uso io io uso trading view e in particolare la coppia di scambio bitcoin dollari cioè btc usd su coinbase perché uso coinbase perché su coinbase innanzitutto sono veri usd di veri dollari americani invece su binance che ha molti più volumi c'è l'usdt cioè tether la maggior parte degli scambi sono su bitcoin usdt e solo che poi c'è il problema dell'usdt perché usdt non sempre vale esattamente un dollaro quindi io preferisco usare come punto riferimento coinbase che il principale exchange americano mi fa vedere i prezzi sui mercati americani che sono i più importanti nel mondo in dollari veri ed è probabilmente che io credo che sia la coppia di scambio bitcoin dollari su coinbase sia la maggior coppia di scambio al mondo in dollari su un exchange americano quindi io lo prendo come riferimento e uso trading view come per per avere questi dati quindi ce li ho in prezzo in tempo reale secondo me è il modo migliore ecco non usate coin market capo coingeco perché i dati non sono in tempo reale hanno un leggerissimo ritardo credo una trentina di secondi giù di lì ok poca roba però quelli veramente veramente in temporale ci sono su trading più andiamo avanti mi domando perché progetti vecchi come adx rp siano sempre tra le troppi dieci senza che nessuno ne parli bene alzi il contrario e ma per un motivo molto semplice perché mancano i concorrenti cioè solana è entrato nella top 10 ha superato ada ha superato anche xrp e è molto vicino a bnb ok vi dirò di più in questo momento nella top 10 escludendo le stable coin che hanno tutto un altro ragionamento top 10 per capitalizzazione mercato abbiamo ovviamente bitcoin ovviamente tirio bnb solana e poi gli altri cioè a mio parere in questo momento ci sono solamente quattro grandi progetti cripto di cui uno solana non è che abbia ancora dimostrato molto anzi ha dimostrato anche di avere qualche problema ha dimostrato di essere molto sostenuto dal marketing ok i veri tre progetti seri sono bitcoin e tirium e e bnb perché dietro c'è bainos c'è solana che sta battagliando insieme a da xrp ma tutti gli altri si fanno concorrenza tra di loro però c'è di progetti alternativi che abbiano lo storico di adx rp e ce ne sono ben pochi sapete ma xrp è vecchissimi del 2012 è roba che sta da 12 anni che esiste a da se non sbaglio dal 2017 c'è in atto lo stesso anno di bnb quindi gli altri fanno molta fatica a scalzarmi perché sono progetti più nuovi ancora basati soprattutto su parole su propaganda eccetera e quindi non riescono a essere scalzati però secondo me il punto chiave che sbagliamo a prendere come riferimento dei top 10 non è che su una cripto routine top 10 significa che chissà che cosa io usarei la top 4 top 4 perché secondo me sono solo quattro i progetti davvero che stanno facendo qualcosa di importante bitcoin e tirio bnb e solana e basta e con solana su cui ho ancora dei dubbi ok io direi che solana sta facendo al 50 per cento non si sa ancora magari domani fa la fine di terra luna ok e quindi non ha senso andare a prendere quelle dopo solana quel dopo solana stanno in una fascia inferiore ok quindi piccone e livello 1 ok e tirio e livello 2 bnb e solana livello 3 basta appunto le altre sono altra roba non riesco più a inviare dal mio wallet né arbitro né ottimista nessun indirizzo sai quale potrebbe essere il problema guarda prova ad aggiornarlo in genere questi sono problemi dovuti al fatto che non è aggiornato cioè quando avete problemi con un wallet cripto la il come dire il problema più comune è quello che stai usando una versione non aggiornata e quindi non riesce a comunicare con il server quindi provo a vedere se è solo questione di aggiornarlo andiamo avanti cosa ne pensi di trust wallet o exodus exodus a me non è mai piaciuto ve lo dico proprio spassionatamente l'ho sempre trovato non lo so non mi ha mai convinto trust wallet invece io lo uso e lo trovo ottimo trust wallet tra l'altro è molto interessante perché c'è arbitrum dsc tron solana eccetera quindi è davvero molto comodo perché allora per quanto riguarda bitcoin io suggerisco electrum e non trust wallet ok tra su let non c'è light in network mentre invece per tutte le al coin io suggerisco trust wallet perché in effetti è davvero molto comodo mi raccomando alla sicurezza proprietà su wallet c'è come app si mette sul telefono se poi perdete il telefono fate attenzione i seed mi raccomando che pensi che black rock avrà un suo token rva no io penso proprio di no perché black rock è una società quotata in borsa e quindi vuole che la gente compri le sue azioni al massimo proprio al massimo massimo potrebbe tokenizzare le sue azioni il proprio luce black rock avrà tantissimi token rva ma non saranno suoi saranno emessi da loro ma rva significa real world asset ci sono token che riguardano degli altri asset prenderanno un sacco di altri asset e li tokenizzeranno ma un suo token credo che se lo avrà sarà solo ed esclusivamente un token che tokenizza le loro azioni quindi la stessa identica cosa delle azioni con lo stesso prezzo praticamente potrebbero anche dire ma emettiamo un token che vale un millesimo dell'azione e quindi il prezzo sarà un millesimo ecco però comunque siamo sempre lì e tra l'altro si è la domanda conti dicendo se black rock dovesse avere un suo token se quest'ultimo dovesse salire pensi che salirebbe tutto il settore del rva o solo token di black rock no secondo me invece black rock si terrà proprio distante dal settore del rva perché io ho paura che non voglia quale problema è che in ambito strettamente cripto molti progetti rva sono fuffa o peggio e quindi io credo che blog rock si voglia tenere molto distante voglia fare le cose in modo perfettamente legale eccetera quindi io credo che cercherà di stare alla larga e non avranno non ci sarà probabilmente un qualche tipo di scambio di interazione tra i due ok questa è la mia idea poi attenzione questa è una domanda a cui bisognerebbe dare poi una risposta giornata tra qualche anno c'è tra due anni magari la situazione è cambiata ok perché qua le cose cambiano molto velocemente xrp che fine farà allora finta fin tanto che ripple perché il futuro di xrp dipende a ripple ok questo non c'è dubbio intanto che ripple continuerà ad usarlo per le proprie piattaforme molto probabilmente continua a essere usato io non so se potrà mai salire il prezzo perché oramai xrp diventato lo utility token delle reti dell'xrp ledger e delle reti di ripple che usano xrp quindi io lo vedo più come una crutevo cripto valuta con un valore relativamente stabile per quanto possa essere stabile il valore di una cripto valuta ma non lo vedo più come qualcosa che possa fare un altro boom come quello del di gennaio 2018 ecco e poi molto dipenderà da ripple perché o è mica detto è che ripple cioè c'è ancora una causa aperta con la sec che se la sec dovesse scusate se il tribunale dovesse da ragione alla sec che accusa ripple di avere venduto sul mercato primario xrp con uno security token perché c'è un tribunale che ha già detto che xrp sul mercato secondario non è da considerare un contratto di investimento quindi non è da considerare una security sul mercato primario non si sono ancora pronunciati e se il ripple dovesse perdere quella causa come sono sono guai quindi occhio ok anche perché ripeto io faccio difficoltà immaginare i ripple c'è talmente tanti xrp in cassa che se le cose dovessero andare male dico per l'azienda ripple ogni tanto le cose vanno male per l'azienda li venderà e quindi se ne farà scendere il prezzo cioè c'è poco da fare cioè comunque la giri credo che sia difficile immaginare per xrp un grande futuro magari per riposì per carità di poi potrebbe anche avere un grande futuro non lo so per xrp ecco segui l'analisi ciclica di bitcoin si l'analisi ciclica di bitcoin la seguo ti dico anche che secondo me è molto interessante vi dirò di più io ritengo più interessante l'analisi ciclica che non l'analisi tecnica ritengo ancora più interessante l'analisi fondamentale solo che il problema dell'analisi fondamentale su bitcoin e c'è davvero pochissimo da analizzare cioè la politica monetaria è quella c'è un albi ogni quattro anni punto e basta quello che si può andare analizzare e quanto viene usata la rete ma non è che cambi molto nel corso del tempo si può andare analizzare che ne so quanti nodi ci sono di lighting network quanti bitcoin ci sono sugli exchange quindi l'analisi fondamentale su bitcoin secondo me è quella principale ma non dà tante informazioni perché sono più o meno sempre le stesse uno può raccogliere tante informazioni ma non variano di molto e quindi a quel punto conviene aggiungerci un'analisi ciclica perché invece quella dà delle informazioni molto interessanti anche molto variabili io invece temo che l'analisi tecnica su bitcoin abbia non so se abbia molto senso a me non piace un gran che ve lo devo dire io ho letto tantissime analisi tecniche su bitcoin sbagliate ma proprio tante 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 invece per quanto riguarda l'analisi ciclica ho letto molte analisi corrette non tutte ok però io diverse volte ho visto qualcuno che faceva un'analisi ciclica su bitcoin e poi si rivelava verosimile non necessariamente perfetta quasi mai sono perfette ma più o meno a grandi linee corrette invece sull'analisi tecnica ne ho viste ma talmente tante di completamente sbagliato cioè c'è gente che è andata avanti per anni a sostenere che il prezzo di bitcoin avrebbe dovuto scendere a 9 mila dollari per recuperare un gap con il cme che è una cosa totalmente assurda cioè è il contrario è il cme che poi ricordo quando quando accade che recuperò quel gap quindi io sinceramente analisi tecnica ci credo ben poco di bitcoin però una cosa molto interessante e per quanto riguarda l'analisi tecnica l'analisi dei volumi quello invece è molto interessante l'analisi volumetrica cioè dove sono concentrati su che livello di prezzo sono concentrati maggiori volumi di scambio perché vi dicono dove hanno comprato di più ricordatevi che volumi di scambio significa che qualcuno ha venduto ma qualcuno ha comprato c'è sempre qualcuno che compra quando qualcuno vende quindi se i volumi di scambio sono elevati su una certa cifra significa che quella cifra molti hanno comprato ma molti hanno venduto e se molti hanno comprato significa che in qualche modo sono interessati a proteggere quel livello di prezzo quindi per quanto riguarda l'analisi tecnica l'unica cosa veramente interessante è l'analisi volumetrica per quanto invece l'analisi ciclica si è molto interessante anche se quest'anno ha cambiato tutto ok quali rva ai sott'occhio attenzione io l'unico progetto che sto seguendo è ondo il progetto cripto ok ma in realtà l'rva più interessante è quello di blackrock nel senso blackrock ha già emesso un asset tokenizzato che però è un banalissimo fondo tokenizzato su ethereum nulla di che e quindi praticamente non è così interessante da seguire ok secondo me i token rva più interessanti sono quelli emessi da chi può garantire che quel token rappresenta veramente la proprietà di un asset quando questa garanzia non c'è però ad esempio il token ondo che secondo me è il token di una piattaforma che non dà garanzie però magari invece poi in futuro le potrà dare non lo so però sul token ondo si può fare speculazione trading interessante in ambito cripto ok mi raccomando è vi do questa idea io ve la voglio ve la voglio veramente far passare cercate di non non immaginare di andare a holdare delle altcoin perché poi tra qualche anno faranno il botto perché le altcoin sul lungo periodo tendenzialmente performano proprio male fate trading sulle altcoin o magari non fatelo se non siete capace però se proprio volete trattare altcoin trattatele con puro interesse speculativo quindi comprate per rivendere nel più breve tempo possibile non tenetele sul lungo periodo sul lungo periodo ci sono i pochi qui pochi quelle poche cripto valute che hanno già dimostrato di essere solide nel corso del del tempo dai abbiamo finito le domande in realtà c'era ancora una che dice mai solo maglie rosse no però ne ho diverse rosse ma a me piace il rosso è il mio colore preferito e quindi io quando devo comprare una maglia il primo colore che vedo è rosso se c'è la compro rossa e poi se non c'è la compro gli altri colori quindi ne ho parecchie e quindi capita spesso che vengo in diretta con le maglie rosse ma solo perché ne ho tante di di questo colore allora ricordatevi che noi ci vediamo mercoledì alle 18 e 30 con vitolops per fargli le domande per quanto riguarda i mercati tradizionali quindi il rapporto di bitcoin con i mercati tradizionali e poi ci vediamo come al solito giovedì sera alle 20 e 30 per la diretta con le domande mandatemi le domande via mail info chiocciolo marco cavicchiole punto it così poi giovedì io inizio da lì a rispondere benissimo dai chiudiamo cinque minuti prima oggi perché pasquetto dai un saluto a tutti ciao